ah 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 ma non manco toccato là no e mo è l'abitud mi capisco mi hanno detto all'ospedale che mo ti hanno dimesso che successo? ma mi hanno fatto uscire è stato un incidente stupido vedi proprio no quel dove ti fai più male come andate? sono uscito al bar volevo prendere l'autobus al volo come ho spiccato il salto dal marcia piede Si è scivolato. No, non c'è stato l'autobus. Allora, quant'è? Che mi fa male? Che mi fa male? Che mi fa male? Piano piano.